16 milioni di euro lei pensa che per garantire attualmente tutti i servizi ce ne servono 45 milioni di euro noi siamo già sotto di meno 16 ecco perché la situazione è drammatica e se non viene approvato entro il 31 questo decreto non solo la provincia di Brini ma tutte le province d'Italia vanno in default così il presidente della provincia di Brindisi Maurizio Bruno intervistato dopo la conferenza stampa tenuta nel salone della provincia per illustrare le difficoltà dell'ente descrive la drammatica situazione finanziaria che si avvia verso l'appuntamento con la discussione sul bilancio del prossimo 31 marzo che se non dovesse essere approvato come detto dello stesso Bruno rischia concretamente il default una situazione nella quale in effetti versano diverse province italiane e proprio oggi Lupi ha innescato una protesta generale con l'invio di un esposto da parte di ogni presidente a procura, corte dei conti e prefettura devo dire che questa proposta io l'ho già applicata l'unica provincia l'anno scorso, l'unica provincia d'Italia ad aver già perseguito questa strada molto probabilmente se tutte le province d'Italia già l'anno scorso insieme al sottoscritto avessero diciamo proseguito con quella che era una battaglia legittima sicuramente la situazione delle province sarebbe stata diversa la provincia ha delle funzioni fondamentali in questo campo oggi abbiamo fatto la conferenza stampa cioè le funzioni fondamentali delle province sono viabilità edilizia scolastica la questione legata alla Santa Teresa è una questione che diciamo va oltre a quelle che sono le competenze della provincia io spero che lo abbiano capito tutti, non solo noi ma i lavoratori e anche i sindacati dal governo intanto si è cercato di far fronte a questa situazione con via libera ad un decreto che permetterebbe a breve l'arrivo di fondi per le province in particolare fondi utilizzabili per quelle che sono le funzioni fondamentali che lo prevede la legge, ripeto, l'edilizia scolastica e la viabilità per la questione estremamente legata alla Santa Teresa abbiamo fatto una battaglia importante insieme alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori e si è arrivata insomma a raggiungere un obiettivo che è la cassa integrazione adesso bisogna lavorare e soprattutto c'è bisogno anche dell'impegno e di un nuovo know-how da parte della società Santa Teresa cioè nel senso deve incominciare anche ad avere una visione diversa che non può essere legata a quelle che erano le funzioni e i piani industriali che fino a qualche tempo fa erano presenti in provincia e c'è da fare un lavoro coinvolgendo i sindaci, coinvolgendo le altre società le società in questo punto, le STP, la ASL, in un tavolo di concertazione che possa traghettare la Santa Teresa insomma i lidi migliori già dall'anno prossimo c'è un segnale importante che è quello che l'incontro da tutti i presidenti delle province da fare sotto il Quirinale il 22 è stato rinviato perché da Lupi è arrivata la notizia che molto probabilmente entro il 24 sarà firmato il decreto dove mette in circolo un po' di risorse per le province con questa forma di protesta che noi oggi stiamo adottando tutti i presidenti delle province